ma scommetto sono in posizione contenitore di biorischio ignota trovatelo inserimento codice il caricatore clima spiazzata tocchi all'esplosione resta solo un operatore d'attacco attaccante neutralizzato ok ok difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio la porta è stata barricata occhio del male in posizione occhio del male in posizione occhio del male in posizione ma va a togliere i coglioni porco zio il nemico si sta in possesso del contenitore intervenite all'istante il contenitore di biorischio è stato preso dagli attaccanti il male in posizione il male in posizione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nemico ha individuato il contenitore di bioristro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore. Il nemico si sta impossessando del contenitore. Interveni... Vollo. Vai, 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 vai. Bravo. Bravissimo. Sarà peggio per te. Ultimo nemico rimasto. Genio del male. Il genio del male, frate. Il genio del male. Parla. Voglio sapere tutto. E vai. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Dovamo proteggere il contenitore di bioristro. Oh, andiamo! E allora, come ho fatto? Dai, dai, dobbiamo vincere! dai ragazzino io vingerò difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio è troppo calmo rimangono 10 secondi ancora 5 secondi il nemico non ha trovato il contenitore cercheranno di localizzarlo durante l'assalto la tua posizione è stata comprometta ricarico arma c'è un'altra su me che è in partenza sono ricaricando state attenti state attenti occhio il nemico ha trovato il contenitore di biorischio avrei visto nooo operatore alleato rimasto il contenitore di biorischio in pausa pensate al nemico missione fallita difensori neutralizzati guardalo guardalo vienio ma quante volte te lo devo dire non lo so neanche io ho condotto il cuore che vi posso ho condotto il cuore te lo dico dai mio cuore buongiorno buongiorno guarda morgo dai l'ultima libera e ci ranchiamo guardate che bella è la mia porta si guarda morgo Grazie. Guarda, mi scrivi che sono alla fine, ma no. Please, can I play... I play Vigil, please. Please. Ora mi dice no. Fammi scrivere. Can I play Vigil, please? Te la fa intaccere nei reni, ma. Te la fa intaccere nei reni, veramente. Te lo dico in tutto il culo. Sì, sto giocando alla PC. Ma come non te lo hub? Scusi, è una diretta di YouTube. Ma va bene. Barricate la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Dai, diamoci una mano. Il muro è fatto! 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 Mancano 10 secondi! Non mi fai male, diametro. Siamo a 5 secondi! Il muro è fatto! Granata è fatto! Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. FIT video attivato. Ciao video. Un nuovo FIT vivo. Ricarico! Aggiungo il mio ospite! Ho rinforzato il muro! Ho preso qualcuno! Ma vaffanculo! Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Ma perché questi giocano tutti a gruppetti qua? Ognuno. Tutti si fanno... Guardalo! Ah! Vabbè, a me non l'ho ucciso. Che genio che sei! Sei il genio, Luigi! Sei il genio! Ma mi secco quello! Dai, dai, forse è finito questo errore! C'è il Valkyrie che ha uno di vita! NEMICO LOCALIZZATO, PRIMO PIANO! NEMICO LOCALIZZATO, PRIMO PIANO! HANNO RINUNCIATO AD APPROPRIARSI DEL CONTENITORE! Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio! Un operatore alleato rimasto! Gli attaccanti hanno il contenitore! Missione fallita! Eh, vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Fra, erano tre, capisci? Capisci bene! Sì! Sì! Sei italiano, no? Forse è italiano! Sì! Sì! Mi prendo... Vabbè! Mi chiamo subito IAEI! E prendo IAEI! Mi sento a me! Sì! Mi sento il fiato! Ma via! Sì! Prova a chiamare NEXT! Barricate la stanza! Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio! Poi, senti, io sono online! Poi, senti, io sono online! Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio! Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio! Qua, dai, vabbè! Mi sento il fiato! Ancora 10 secondi! Telecamera attivata! Siamo a 5 secondi! Telecamera attivata! Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio! Ricarico l'arma! Per quanto è il pallimento! Ricarico arma! Pronto! Pronto! Ho fatto il pallimento! Ricarico l'arma! Questa è il pallimento! Questa è il pallimento! Mi fa saltare in aria Mi fa saltare in aria Perché mi butta il C4 Guarda, 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 guarda come si è fatta tu Che squadra è? Forza, troppo Ma serio? Il nemico sta difendendo il contenitore di violistio Resta solo un operatore alleato Ma serio non lo stai dicendo? Go inside, bro, inside, go No, niente Missione di difesa fallita Il contenitore di violistio è stato preso dagli attaccanti 32 1 E 0 Infatti ci sono io, 109 E questo? 84 Magdalena No, chi è materiale? No, chi è materiale? No, non va a pincero Sì, sì, sì. Dovete trovare il contenitore di biorischio. Ben fatto. Il contenitore di biorischio è stato individuato. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi all'inserimento. Contenitore di biorischio individuato. Raggiungetelo. Edda. Inserimento codice. Ricarico. Lancio un fumogeno. Devo ricaricare. Cambio un caricatore. Belloci. Diamo un'occhiata in giro. Ma tu ti rendi conto? Mi ha aperto. Mi ha aperto. Tornate a occuparvi del contenitore. Lasciate perdere il contenitore. Un operatore alleato rimasto. Vai via. Vai via. Vai via. Go. Beh non dico niente perché veramente... Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. Immagina dove possa essere. Cioè lui... Ma no. Non ci credo. Dimenticatevi del contenitore. Squadra d'attacco eliminata. Cioè no io non ci posso credere. No. No no. No. No no. Non è minimamente fattibile. Basta. No. No. Basta. Ne ho giocare in partite serie. Non mi sono ratti. Veramente. Accetto tutto. Accetto tutto. Grazie a tutti. 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 Per forza. Secondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il drone. Cerco... Un... e... carica pronta devi recuperare il disinnescatore mamma mia quando ricarico eh questo round è certo ma sei visto dov'è? l'ha visto guardalo abbiamo il disinnescatore ricarico arma tutto l'assalto è in campo non hai più il disinnescatore resta solo un operatore d'attacco l'attaccante è stato eliminato l'attacco dove è venuto? mi auguro che si è andata l'attacco vado la squadra d'attacco ha trovato una bomba preparare le difese parete sicura parassita colpo a segno nuovo drone e tanti saluti siamo a 10 secondi mancano 5 secondi ho rinforzato il pavimento la squadra d'attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica madonna che stupro quando mai scusatemi uno rinforzato cambio caricatore sequestra pronto un nuovo drone è tutto per noi ma l'altro dov'è? sta bloccato per poi bravo ma c'è un problema di fondo disinnescatore di bombe fiazzato te la puoi giustare bravo si ma disinnesca ci puoi arrivare ci puoi arrivare oh difensori eliminati missione fallita non ce la possiamo fare portare a casa così portarci a casa per forza no per forza per forza per forza per forza per forza ignoranza come stile di vita ignoranza difendete difendete l'area e proteggete le bombe sostenere un altro ti dico per forza un altro primo mi raccomandò un grande Rimangono 10 secondi 5 secondi La squadra d'attacco ha trovato una bomba Preparare le difese La squadra d'attacco ha trovato una bomba Non c'è tempo Ma chi è che mi... dov'è, dov'è, dov'è Che sfida Siamo protetti La squadra d'attacco ha trovato una bomba 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 Non è gratuito La squadra d'attacco ha trovato una bomba Sì, c'è resta accaduto. Sì, è... è qui? Difensori eliminati, missione fallita. Cazzo. Sì. Sì, metà qua. 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 Non te la piccare così, fratello. Piazzo del porco spino. Ma vaffanculo. Quando mi distrago un attimo. Mi distrago un attimo. Lo ha visto. 15 secondi. 15 secondi. Rimangono 5 secondi. Disinnesso. Disinnescatore in campo. Missione fallita. Missione fallita. Un attimo. 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 Un attimo.